La Kundalini rappresenta il potere del serpente, cioè l'energia universale che risiede dentro di noi, risiede nella zona del perineo e può essere risvegliata. Può essere risvegliata significa può essere attivata e si può indurre questa energia, la Kundalini, a salire lungo la colonna vertebrale, andando ad alimentare ognuno dei sette chakra. Portando la Kundalini nei chakra superiori si acquisiscono quelle che vengono chiamate le siddhi, cioè i poteri, la vergenza, la capacità di entrare in sintonia con gli altri, e la capacità di comunicare non soltanto a livello verbale, ma entrare in comunicazione telepatica con le altre persone. E quindi si sviluppano quei sensi che vanno oltre i cinque sensi. Ecco una meditazione per risvegliare la Kundalini. Ti chiedo di ascoltare il suono della mia voce, quello che dico, di chiudere dolcemente gli occhi e di posizionarti con la schiena eretta, seduto o con le gambe incrociate, ma è importante che la tua schiena sia eretta, come se un palo, un bastone, la tenesse completamente eretta e rigida. E mentre sei seduto con la schiena eretta, con la schiena rigida, con gli occhi chiusi ed ascolti il suono della mia voce, ti chiedo di portare la tua attenzione nella zona del perineo, alla base della tua colonna vertebrale. E mentre continuo ad ascoltarmi e a respirare tranquillamente, il tuo respiro si fa calmo e regolare, come il respiro del mare, come il respiro dell'universo. Puoi immaginare, alla base della tua colonna vertebrale, un serpente luminoso arrotolato. Un serpente luminoso arrotolato. E mentre continui ad ascoltarmi, ti chiedo di iniziare a diventare come un incantatore di serpente, che inizia a emettere nella sua mente, come se uscisse da un flauto, continui a ripeterlo nella tua mente, mentre visualizzi e questo serpente arrotolato che inizia ad attivarsi al suono del tuo mantra. E questo serpente inizia a salire piano piano verso l'alto, lungo la tua colonna vertebrale, dandoti uno scatto di energia ogni volta che incontra un voltice. nella zona dei tuoi genitali, nella zona del tuo ombelico, nella zona del tuo cuore, al centro della radice del tuo naso, al centro dei tuoi occhi, sulla sommità del tuo capo. E puoi continuare a vedere questa energia salire sempre di più verso l'alto fino a diffondersi completamente nell'universo. E tu diventi un canale attraversato da questa energia. Questo serpente che al suono del tuo mantra sale, sale e si energizza sempre di più, diventa un serpente enorme che comprende tutto te stesso e lasciati attraversare da questa luce e da questa energia. Lasciati attraversare completamente da questa luce e da questa energia. Sei soltanto un canale che riceve energie dell'universo attraverso la sommità del tuo capo e tutto te stesso diventa energia. Sei completamente energia. E ogni punto del tuo corpo, ogni cellula del tuo corpo risplende della luce del serpente. Continua a respirare tranquillamente e visualizzarti come un'antenna in grado di ricevere energia dall'universo e di trasmettere energia all'universo perché hai risvegliato il serpente. E puoi provare sensazioni molto particolari e lascia che queste sensazioni ti diano una guida, ti diano una strada, ti diano un'illuminazione. Fai tutto questo per sette respiri. Grazie. 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 E adesso lascia che il serpente tranquillamente torni nella sua sede alla base della tua colonna vertebrale nella zona del perimeo e possa riaddormentarsi tranquillamente, pronto a risvegliarsi nel momento in cui avrai bisogno di forza e di energia. E adesso fai ancora un respiro profondo. Al termine di questo respiro apri tranquillamente gli occhi. Bene, questa meditazione potete praticarla al mattino soprattutto perché vi darà energia per tutta la giornata e si allenerà il serpente, il potere che abbiamo dentro di noi ad aiutarci a supportarci nel raggiungimento di quelli che sono i nostri obiettivi. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo e ti invito a seguirmi sul blog www.siduzionevip.com Ciao